La Pace e la Grazia del Signore Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Certo, Gesù è nato più di due mille anni fa in una grotta a Betlemme, ma Egli è ancora vivo oggi, nel cuore della nostra vita. Egli viene ogni giorno il nostro soccorso, ci salva dalle nostre ferite, ci porta gioia e conforto. Che la gioia riempi i vostri cuori, che la pace del Salvatore discenda sulle vostre famiglie, su tutti i vostri cari. Preghiamo, preghiamo che la sua pace possa discendere sulla Terra Santa, su tutto il Medio Oriente sofferente. Il nostro pensiero si volge in particolare ai cristiani dell'Iraq, la cui gioia di Natale è oscurata dalla recente tragedia di cui sono stati vittime. Siamo uniti a loro in comunione di preghiera. Quest'anno è stato segnato da un evento importante, il Senado per il Medio Oriente, un soffio di vita nuova per le nostre chiese. Lo Spirito Santo ha infatti ispirato i padri sinodali, suggerendo loro come rafforzare in diversi modi la fede dei cristiani. Possa Dio accompagnare i pastori fideli nella ricerca di come concretizzare nella vita il messaggio del Senado, segno di autentica speranza per tutti noi. Cari fratelli e sorelle, vi auguro un Buon Natale, un felice Anno Nuovo 2011, colmo della benedizione del Signore. Gesù nasca nel cuore di ciascuno e la Beata Vergine Maria, Stella d'Oriente, sia al nostro sostegno ogni giorno della nostra vita. Auguri e Buon Natale. Grazie a tutti.